Incompagnato il dottor Carlo Palmieri, vicepresidente di Pianoforte Holding, partiamo con l'azienda moda. Qual è il sostegno del nostro governo all'azienda moda e nel nostro paese in generale? Pianoforte Holding, la società del gruppo che ha in pancia le brand Carpisa, Yamama e Jacket, forse più riconosciuti rispetto al brand, fa piacere parlare adesso di sistema moda, nella qualità di vicepresidente nazionale di Sistema Moda Italia, con delega a mezzogiorno. La moda è uno degli asset fondamentali in termini produttivi del nostro paese, lo diciamo sempre, è la carta per andare all'estero del Made in Italy, il problema è rete, come al solito. Dobbiamo creare le condizioni in cui le piccole e medie aziende con caratteristiche di eccellenza in termini di produttività facciano rete e quindi squadraforte per presentarsi in mercati internazionali che sono globalizzati e quindi molto complessi. Si discute sempre di un mezzogiorno che dovrebbe crescere, ma magari non è il paese Italia a dover cercare di mettersi al passo con il mezzogiorno? Assolutamente sì, tra l'altro i fattori contingenti sulla nostra economia non daranno spiragli positivi in termini di consumo e quindi in termini di crescita del mercato locale. Quindi è obbligo che si guardi fuori dal nostro mercato e appunto per fare ciò c'è bisogno anche di dimensioni o quantomeno di progetti comuni. Sono importanti anche i vostri progetti di formazione? La formazione è uno dei punti fondamentali sulla crescita e ci sono degli argomenti adesso su quale noi del SISEM Moda siamo molto attenti, per esempio gli ITS che sono quelle aggregazioni dal punto di vista scolastico post obbligatorio che dà la possibilità ai giovani di andare direttamente in azienda e quindi non fare ancora passaggi solo teorici ma andare direttamente dal punto di vista produttivo nelle aziende. Concludiamo, da questi due giorni secondo lei qual è il messaggio da lanciare? Il messaggio è che non ci dobbiamo abbattere anche perché il clima, a parte il tempo positivo, non è proprio ideale. e quindi viene da giovani, fa ben sperare perché ho visto nelle loro facce, nelle loro parole tanta voglia di fare e quindi auguriamoci che queste parole poi portino ai risultati per il nostro paese.